Musica Torre del Greco celebra la giornata nazionale dello sport e lo fa con il torneo nazionale di mini basket città di Torre del Greco primo memorial Carlo Mazza e con la sfilata delle squadre partecipanti venerdì pomeriggio. Un bel momento di condivisione e partecipazione all'insegna dello sport. Un corteo con l'associazione degli sbandieratori che da piazza Santa Croce ha attraversato il centro cittadino per concludersi allo stadio Liguero. Dopo l'intervento delle autorità sono state premiate le società sportive che hanno partecipato all'evento. Ai microfoni di TV City l'assessore allo sport Giuseppe Speranza. Grossa partecipazione, bei momenti, grossi nomi hanno varcato lo stadio Liguori per il riconoscimento di questo momento importante per tutta la città. Quest'anno la giornata nazionale dello sport l'abbiamo dedicata al compiando Carlo Mazza. Quali associazioni sportive sono state premiate? Tutte le associazioni sportive cittadine nonché le delegazioni, delle associazioni di mini basket provenienti da tutta Italia in quanto è in corso anche in questo momento il torneio di mini basket intitolato a Carlo Mazza in sua memoria. Un momento di festa, un momento di grosso orgoglio per la nostra città e per la nostra amministrazione.